Allora ragazzi, richiedo con la formazione, il saluto di tutti e grazie alla nostra telecamera Trafican Short Production, potremmo chiamarvi sul Facebook, su YouTube, le vostre interviste Allora signori ti faccio un gioco, tu non devi rispondere senza dire né sì né no Proviamo? Come ti chiami? Gaetano Sedi? Bene Quanti anni hai? 29 Sei single? Sì E' finito Vabbè, fai un saluto a chi vuoi tu Ciao a tutti